I campioni d'Italia battono la passalacqua per 65 a 47 e si portano sul 2 a 0. Le biancoverdi devono sperare adesso di ripetere l'impresa col Venezia. Vincere le due gare in casa in programma martedì 7 maggio alle 20.45 e giovedì 9 maggio alle ore 20.30 e l'eventuale bella fuoricasa prevista per domenica 12 maggio. Gara 2 è stata a senso unico per le Venete padrona del campo dall'inizio alla fine, capaci di conquistare tanti rimbalzi in attacco recuperando quasi sempre gli errori al tiro. Abbiamo avuto un impatto pessimo, ha commentato l'allenatore Gianni Recupido. Ci siamo arrese senza nemmeno lottare e non c'è spiegazione tattica, probabilmente ce n'è una psicologica che andrà approfondita. Questo impatto pessimo poi ha influito su tutto il resto. Loro ovviamente sono state bravissime e dunque complimenti a loro. Per il Ragusa sono andate a segno Nicole Romeo, 13 punti, Angela Giannolla, 10, Sabrina Cinili, 8, Jessica Castere, 8, Diarica MB, 6, Alessandra Formica, 2. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.